E' stata presentata a Torino la lista CTAV si lavoro per il Piemonte nel cuore. Capolista Mino Giacchino sarà parte della coalizione che sostiene Alberto Cirio come candidato presidente. Antonio Sgobba. Alberto Cirio sceglie la presentazione della lista CTAV si lavoro per il Piemonte per ribadire il posizionamento della sua coalizione a favore della Torino-Lione. Noi faremo sottoscrivere a tutti i 200 candidati al Consiglio regionale del Piemonte un impegno in favore della TAV e voglio vedere quanti dei miei colleghi saranno in grado di fare lo stesso. Con Cirio si schiera l'ex sottosegretario ai trasporti Mino Giacchino, uno dei promotori delle manifestazioni CTAV. Ma cinque mesi dopo quella piazza sembra divisa con Giovanna Giordano, una delle organizzatrici che invece sarà candidata con Chiamparino. Io rischio con una lista civica correndo cercando i voti senza risorse per fare la campagna elettorale. La signora è nel listino quindi non deve fare campagna elettorale. Mentre io porto il contributo della piazza alla lista di Cirio, lei si aggrega a Chiamparino e usufruisce del suo traino per entrare in regione. L'obiettivo per la lista civica di centrodestra è entrare in Consiglio regionale e influire sulla nuova giunta. Nella regione porteremo anche un assessorato ai trasporti che vorrà modificare la politica della mobilità della giunta a Pendino. Tra i candidati CTAV si lavoro anche il cardiochirurgo della regina Margherita Piero Abruzzese e il consigliere regionale uscente Gianluca Vignale. E Sergio Chiamparino, candidato governatore del centro-sinistra alle elezioni del 26 maggio, replica alle affermazioni sulla Torino-Lione del candidato del centrodestra Alberto Cirio. Invece di far firmare dichiarazioni di principio sulla TAV che lasciano il tempo che trovano, il candidato del centrodestra alle regionali si rivolga all'azionista di maggioranza della sua coalizione, quella lega che a Roma governa con i 5 Stelle e che prima ha fermato la TAV e poi rinviato ogni decisione a dopo le elezioni per tenere in piedi governo e poltrone mettendo a rischio l'opera. Noi ci siamo spesi in prima persona al Cipe, nell'osservatorio e presso il governo per far aprire i cantieri, ha aggiunto Chiamparino. Quest'anno ci prendiamo il primo maggio chiamando a raccolta i No TAV, porteremo in piazza una visione del presente sul futuro distante da madamine, partiti e sindacati che mentono raffigurando la Torino-Lione come la panacea di tutti i mali, così in un comunicato diffuso dal movimento No TAV. I No TAV si daranno appuntamento alle 9 del primo maggio in piazza Vittorio Veneto a Torino, tradizionale punto di partenza del corteo. Il movimento sfilerà dietro lo spezzone dei movimenti centri sociali, sindacati di base, collettivi autonomi, studenteschi. E si terrà regolarmente la cerimonia del 25 aprile, programmata a Cugniana, comune pinerolese, medaglia d'oro al Valor Civile. Inizialmente pareva che la celebrazione dovesse essere convocata autonomamente dall'Associazione Nazionale Partigiani perché il comune, ora guidato da un commissario prefettizio, aveva scelto di non partecipare. Dopo un incontro, la polemica sembra rientrata, il comune di Cugniana sarà ufficialmente presente alla celebrazione del 25 aprile con il suo gonfalone. Il commissario straordinario non parteciperà per un impedimento familiare.